Siamo con il presidente della FIAIP, la federazione che riunisce gli agenti immobiliari professionisti, Paolo Righi, per parlare di tassazione sulla casa e in particolare della nuova misura prevista con il deposito del prezzo di compravendita. Presidente Righi, ci spiega di che cosa si tratta? È molto semplice, colui il quale intende vendere un appartamento, come sempre lo trasferisce per mezzo del notaio e il notaio invece di dare i soldi al venditore trattiene questi soldi e li mette in un conto corrente nella disponibilità dello Stato italiano. Trattiene questi soldi fino a quando l'atto non è trascritto, il codice civile mette da 30 giorni di tempo al notaio per trascrivere e gli interessi sono totalmente trattenuti dallo Stato. Le banche si faranno pagare per i bonifici, il deposito, l'apertura dei conti correnti, quindi un'ennesima tassa a carico dell'immobiliare. Quali sono le ragioni per cui è stata introdotta questa misura? Secondo noi i motivi sono sostanzialmente due, per finanziare la medio-piccola impresa che per l'amor di Dio va finanziata ma non penso con i soldi dei cittadini italiani. E in più una forte azione di lobby da parte del notariato, commettendo l'errore di rincarare quelli che saranno i prezzi delle compravendite, perché il notaio si farà pagare al momento del trasferimento e poi sicuramente si farà pagare ancora nel momento in cui con un atto dovrà rilasciare le quietanze ai venditori e ai compratori. Quanto entra in vigore il provvedimento? La misura è già legge, è stata inserita nel patto di stabilità nel 2013 con un emendamento della segnatrice Finochiaro, doveva trovare la propria attuazione il primo di maggio, però le commissioni atte a preparare tutti i regolamenti si sono fermate perché questa norma ha delle gravi carenze di costituzionalità. Rischia di penalizzare il mercato immobiliare e di quanto secondo lei? Inciderà pesantemente perché intanto c'è una difficoltà pratica. La maggioranza delle transazioni oggi avviene perché il proprietario di casa vende la propria per comprarne una più grande, quindi per migliorare il proprio stato abitativo, quindi sono quelle che si chiamano le famose vendite a catena. Nello stesso giorno una persona era in grado di vendere e acquistare un'altra casa. Oggi non è più possibile perché se uno vende non ha la disponibilità del denaro, dovrà aspettare 30 giorni o 35 massimo per ricevere il proprio denaro e poi eventualmente andare a stipulare un altro atto. Che cosa propone la FIAIP per risolvere la situazione, per uscire da questa impasse? Una cosa molto molto semplice. Esiste una cosa, forse non lo sanno il notariato e i politici, che si chiama informatica. E per trascrivere un atto basta schiacciare un bottone, prenotare la trascrizione all'ufficio delle trascrizioni e il cliente è salvo. Quindi la proposta che noi avanziamo, anche un po' così simpaticamente e ironicamente, è quella di abolire questa norma e di obbligare il notaio e l'ufficio delle trascrizioni immobiliari a creare un sistema per cui il notaio al momento del trasferimento dell'immobile prenota l'atto di trascrizione con un semplice, anche se volete con una semplice mail, in cui si afferma che quel bene è stato ceduto a. Ma il notariato lo avete sentito direttamente? Abbiamo esposto al notariato tutta la nostra contrarietà sulla norma. Io capisco il momento di crisi, capisco che il numero della compravendita è calato e quindi anche gli introiti, ma a noi questa non sembra una norma che vada a risolvere i problemi dei cittadini, ma una norma volta eventualmente a fare un pochino più di fatturato, mi dispiace dirlo, e che creerà tanti problemi a tutti gli altri. Di recente il ministro delle infrastrutture, Lupi, ha promesso nuovi incentivi per la casa per fare ripartire il mercato immobiliare. Ci spiega di cosa potrebbe trattarsi? Apprezziamo molto lo sforzo di Lupi che Lupi sta facendo sulla casa e tutte le proposte che ha fatto la settimana scorsa e anche mesi fa. Sta di fatto che queste sono proposte e noi, ripeto, vediamo le proposte per il rilancio e poi vediamo queste cose. Allora perde anche di credibilità la proposta, le buone proposte che Lupi sta cercando di fare con i pochi mezzi a disposizione, ma sinceramente la credibilità generale di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni nei confronti dell'immobiliare è veramente bassa.